Ciao a tutti e a tutti benvenuti in questo nuovo video in questo video sarà un video haul 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 come lo volete dire non spadentatevi che sto con le maniche corte ma è una è una maglietta di mio fratello sempre di mio fratello della ditta in cui lavora però non voglio fare pubblicità occulta, mettiamoci i capelli e perché ho fatto gennarsi a scuola quindi mi sono cambiata è stretta rispetto alle altre di mio fratello infatti a me sta perfetta non capisco a lui come gli stava la stessa cosa da quella nera allora questo sarà un nuovo video haul non spaventatevi che sono struccata cioè ne ho struccata ho fatto il sopracilla con un po' di mascara e qua lasciamo verde per favore sarà un video haul ragazzi stupendo, preparatevi e ci sono un po' di cosette quindi preparatevi e ci sono due pezzi forti di cui uno lo faccio vedere all'inizio e uno lo faccio vedere alla fine allora voi sapete la mia passione no? oppure se non lo sapete ve lo dico adesso se vi aspettate io sono portrayed forever and ever e tutto l'altro diciamo e ho ordinato delle cover su Aliexpress altre mi devono arrivare però intanto mi arriva da questa che è la più importante per me perché volevo che arrivasse è arrivata proprio oggi anzi buon primo dicembre a tutti mancano 24 giorni a Natale 24 giorni vabbè escemo guardate siete pronti? siete pronti 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 tadan oddio c'è raga non potete capire quanto è bello ma c'è allora c'è oddio ma perché io faccio cade tutto faccio spostare tutto allora ci sono le casate grifondoro serpevedde tasso rosso e grifondoro serpevedde tasso rosso e corvo nero e in più non so che c'è scritto qua sotto però c'è scritto dei nomi tipo draco e queste cose qui c'è lo sfondo è stupendo qua sembra tipo che la pittura è un po' uscita e cioè raga io la amo e la stramo è di pellicola cioè è morbida come cosa l'ho pagata tipo 10 centesimi su aliexpress 10 centesimi per sta cosa cioè io tipo la devo prendere sub è mia e l'ho ordinata tipo l'altro mese quindi ci vale un pochettino prima che arriva e siccome sono cover che ho preso da fornitori diversi l'altro ci mettono ancora di più per arrivare con quello tetto che ho pagato a 10 centesimi se l'ho detto perfetto sti capelli allora mia madre perché mia madre non capisce che io le sopracciglia ce le ho nere ok sembra sembra di no ma ce le ho nere adesso mia madre mi ha comprato questa matita linea sopracciglia della bella oggi però potete vedere da voi che è grigia cioè io ho detto ma dove metto sta cosa e lei eh vabbè ma va in giro con le sopracciglia grigie eh sì certo ma non so come usarla sinceramente quindi non lo so consigliatemi voi come usarla e non lo so quanto è costata perché l'ha comprata mia madre poi allora ho ripreso un burro cacao perché le mie labbra in questo periodo stanno facendo altamente schifo questo qui di labbello vabbè soft rose balsamo labbra idrata ed esalta il colore naturale con estratto di rosa comunque sì il labbello è è putente come cosa quindi ottimo sì però siccome non mi piace la cosa classica cioè non mi piace essere classica come gli altri non mi prendo il labbello classico no voglio quello della rosa ok 99 centesimi da risparmio casa poi le nuove idra bomb di garnier che già ne ho provata una e mi è piaciuta però siccome costano 1 euro e 98 ce ne sta solo una praticamente faccio piano piano diciamo questa è innovazione per pelli miste o grasse vabbè questa qui ci sta sia rosa che blu oddio aspettate ho appena mangiato ok ci sta sia rosa che blu e però non so a quell'altra cosa servono e però questo è per pelli miste a grasse quindi ottimo per me poi mi sa cioè fatemi sapere giù nell'info box se volete un video mentre io provo questa cosa 1 euro e 98 poi siccome mi è finito il profumo no io non è che vado a prendere i profumi oddio aspettate che mi sento tipo osservata vabbè io non non prendo profumi quelli là di marca e tutto quanto ho preso questi qua sempre da risparmio casa è versant 4 euro e 90 questo qua oddio vabbè è rosa e si chiama eversant 4 euro e 90 allora siete pronti siete pronti allora ho preso un paio di scarpe allora siccome le mie scarpe da ginnastica appunto sono andando a farsi fortere a farsi fortere perché sono le cose che io uso di più no ok stavo lì dicevo non so come si chiama sto modello ma penso di Dr. Martins stavo lì e mi sono letteralmente innamorata non lo so forse non può piacere agli altri ma a me si di queste questo modello di scarpe che sarebbero le Dr. Martins cinesi però con la pellicciotta qui io tipo adoro qui dentro tipo adoro questa qui ha i soliti rilaccetti ed è il numero 39 perché il 38 non c'era già partiamo da questa cosa che ero sfigata proprio al massimo e mi sono provata il 39 però mi sta a largo però siccome io di solito uso i salvapiedi cioè quelli là che stanno sotto per non farli vedere le scarpe da ginnastica ma questo posso usare pure dei cosi più pesanti no e quindi ho detto vabbè ma mi compro il 39 e uso dei cosi più pesanti questi sono costati 14 oddio mi sa che ce la faccio 14 euro e 90 per ovviare a quel problema mi sono comprata questo paio di calzini sì 2 euro 3 paia questo è qua ci sta questa questa e questa con le stelline perché le stelline va bene sì e sono dalla 35 41 quindi vabbè e sono più pesanti rispetto a quelle che porto io quindi vanno bene per le scarpe allora ragazzi preparatevi l'ultimo pezzo forte e l'ultimo pezzo del lol ragazzi io ve lo dico è una cosa che io adoro l'ho voluta da un anno questa cosa e tipo non riuscivo mai a trovare una cosa che mi piaceva tanto questa mi piace anche se non è proprio perfetta come volevo io però mi dico solo che c'entrano gli unicorni mi dico solo che c'entra un pigiama mi dico solo che è rosa mi dico solo che sto letteralmente impazzendo e il pigiamone ha un unicorno guardate guardate la la cosa oddio c'è l'unicorno qua oddio aspettate come posso vedere oddio eccolo ho preso un XL perché tipo mi sta gigante però che cazzo mi viene cazzo mi viene aspettate vi faccio vedere che riesco ad aprire stupendo tipo oddio stupendo questa parte sotto oddio no vabbè guardate io adesso faccio i video solo con questo mi prego mi prego ma non lo so la luce come sarà oddio adoro follemente adoro follemente basta lo amo ed è costato 18 euro e 90 penso che mi vedete così per tutto per tutti gli altri video io faccio i video con questo non me ne frega niente allora ragazzi ok il video è finito spero che questo video vi sia piaciuto e gioite con me di queste bellissime cose io tipo no cioè appena l'ho visto dai cinesi tipo quel mio quindi niente ve lo sciamo verde ve lo prego che anche io sto già impazzendo cioè oltre a questa cover che per me è la cosa più importante e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto spero che avrete gioito con me in questo lungo viaggio non è vero noi ci vediamo al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto spero che il pigiama vi piaccia fatemi sapere giù nei commenti se volete il video in cui provo con voi la maschera e un video in cui mi vedete con il pigiama e avevo intenzione anche di raccontare un po' delle mie esperienze paranormali perché ne ho avute un pochettino e non lo so fatemi sapere giù nei commenti se volete queste cose anche se io non è cioè io ci credo a queste cose perché se esiste Gesù esiste anche il diavolo però dobbiamo fare molta attenzione a parlarne ecco noi ci vediamo al prossimo video vi mando un bacio enorme e alla prossima ciao ciao